In un ciclismo sempre più tecnologico qual è l'importanza dell'abbigliamento nelle prestazioni dei ciclisti? Se dire in una parola è determinante proprio avere un abbigliamento molto tecnico, quello che abbiamo noi in squadra. Soprattutto mi fa molto piacere per me che noi abbiamo abbigliamento da corsa e abbigliamento da riposo per tutti i corridori, tutto staff di unico marchio. Questo è molto molto importante per noi. Poi devo dire anche di qualità eccezionale e devo dire anche di tutte le tecnologie che usa Win per sviluppare prodotti che sono a livello top. Quali vantaggi avete trovato in un partner come Win? Noi non è il primo anno che lavoriamo, è sicuramente un lavoro che diciamo aiuta, a noi aiuta essere sempre vestiti bene e a livello di tecnologie molto alto. e noi diamo a Win tutte le informazioni necessarie per sempre migliorare il loro prodotto. Ciò è una collaborazione che dà vantaggi a tutte e due parti. Perciò il primo vantaggio è questo che aiutiamo ad essere meglio. Melio va a squadra e Win lavora meglio per portare i suoi prodotti ancora più su. Perciò il primo vantaggio. Perciò il primo vantaggio. Rovira vovira